Possiamo comunicare che l'accordo tra Stato e Regione siciliana, che attribuirà alle ex province 150 milioni di euro, è stato finalmente raggiunto. Così il sottosegretario alle finanze, Alessio Villarosa, che ha comunicato come il laborioso negoziato tra Stato e Regione siciliana si sia concluso positivamente. Con il vicepresidente della Regione, Gaetano Armao, è stata trovata la soluzione che verrà formalizzata a breve, tramite la sottoscrizione da parte del Ministro dell'Economia, del Ministro per il Sud e del Presidente della Regione di un addendum all'accordo firmato a dicembre scorso. L'accordo consentirà di utilizzare 150 milioni di euro, 140 dei quali provenienti dal Fondo di Sviluppo e Coesione, per ripianare disastrosi bilanci delle ex province siciliane, evitandone il distesto e garantendo al tempo stesso lo sblocco dei finanziamenti già stanziati per l'avvio delle opere pubbliche che i cittadini aspettano da tempo. Come già annunciato, grazie all'impegno delle senatrici Barbara Floridia e grazie ad Angelo, è stato depositato il primo emendamento al Decreto Legge Sblocca Cantieri, che introdurrà alcune deroghe alla disciplina della contabilità pubblica, necessarie per consentire ai liberi consorzi comunali e alle città metropolitane della Regione siciliana di predisporre i documenti contabili di chiusura degli esercizi pregressi e di programmazione per l'anno in corso. Tutti i dettagli verranno listrati in una conferenza stampa che verrà annunciata a breve.